il primo anno è stato qui se ti vediamo eh mi raccomando che va alla messa si ti vediamo eh si 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 ed eccoci in Egitto fresca fresca esatto che sabbia bianca per me che ha il touring ha sbagliato comunque vai lì dai vai eccoci qua finisci la tua sabbia dai eccoci qua eccolo qua Claudio a che coppia? vai vai questa è la cresta la cresta che botte a Grenauio a me è andata ora si davvero io cavolo ho dovuto prendere un giorno di ferie ma cos'è? mi parli di lei sono lui ah è uno di lei ah lei o lui ho capito io che dici lei sono lui e il cane invece? che c'è? che c'è? l'altra quarta comincia a frasciare ti vedi? che trovate che c'è? per non non è è l'anno che c'è? è in non che c'è? Ecco il Matteo che venga a questo esquisto Grazie per la visione Grazie a tutti